Questa è la parte in cui non ci sei. Non ci sei. Bellissimo quando non ci sei. Teniamo solo questo, facciamo un video di così, cinque ore così. Bello, bellissimo. Centralizzati! Vai, vai! Ok, mettiti un po' più in qua. Un po' più in qua. Così, perfetto. Vai! Ah, stai già registrando? Sì. Bene. EUROPA! 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 Va bene così. PAH! PAH! Eh, lo so, anch'io. Ma sei una talpa! Grazie! Prego! Ok. C'è il pallino rosso? Sì. C'è il pallino rosso? Sì. C'è il pallino rosso? Qua, che fra un po' mi cadono le brac... Eh, un, due, tre, stella. Direi di no. Boh, riproviamo. Forse... Non sono un gran bravo... Registra pallino rosso. Pallino rosso? Fammi vedere! Daaaah! Da, io sono il meglio regista che c'è qua. Sì, però questo è il terzo Chuck. Lo quarto, scusami. C'è ancora il pallino rosso? Vai! Pallino rosso? C'è, sta registrando. C'è ancora? Yes. Continua ad esserci? Sì. Brava. Brava, tua sorella. Non c'era? Stiamo spellando l'aglio. L'operazione è la più, la più veramente rischiosa e difficile di tutta la... Di tutta la nostra... Opera cinematografica. Pallino rosso? Non me ne veniva in termine chiamare l'opera. Mi sembrava... Un eufemismo, troppo poco. Troppo poco. Qui stiamo, c'è proprio Kubrick, veramente alta scuola di cinema. Oltre che... Oltre che di cucina. Tutto fuori fuoco, però ci piace. È concetto, è concettuale, è concettuale. No, cos'è? Io sto già registrando. Non so, lo sto vedendo come prendo. Così, poi tracca. Ok. Sono trucchi di scena. Azione. Puzza d'aglio. Bisogna vomitare. Di serie? Dicevo, azione. Coglione. Sto pensando come continuità, perché se sto con me così, quello sembra. Niii, i giorni miei. Scary movie. Beh, questo lo tagliamo. Bello, io sto registrando, eh. Per il backstage. È per il backstage. Oh, magari non stai. Adesso ti sei mosso tutto e sei fuori fuoco. No, non sei fuori fuoco. Vabbè, proviamolo. Quando ci sei... Ti do azio. Non era bello. È stato un fuoco? Credo di sì. No! Fuoco! Si muore pazienza per i bambini. Pronto? No. Azione. C'è il panino rosso? Si. Bene. Ciak. Sangue, morte e violenza. Non ridere. È una provincia bolognese. Esatto. Non ridere. Azione. In mezzo di Stanislavski. Io ti dicevo che io sei posto. Pronti? No. Intristisciti. Soffri. Pronti? Vai. Azione. EUROPA 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 EUROPA